Ad Avellino è emergenza topi in periferia, la segnalazione per SOS città arriva dal civico 35 di via Gaetano Salvemini, rione San Tommaso, dove gli inquilini sono esasperati. Da più di un mese sono alle prese con i roditori che hanno fatto una tana nelle cantine del palazzo. Sono dovunque, ce li troviamo davanti alle porte di casa, qui ci sono bambini, è pericoloso e antigienico. Abbiamo paura nei bambini, nella stazione dei bambini piccolini. Neanche due anni hanno fatto i lavori qui, lì in casa, sia i tetti che la facciata. Siccome sotto eravamo invasi da topi, però stavano sempre sotto, non li vedevamo quasi mai, tranne qualche volta che c'era un buchetto qua che uscivano fuori. Quindi tra i lavori che hanno fatto hanno svuotato la terra e hanno messo tutto a posto, buttando il veleno, sono usciti tutti, li hanno trovati tutti morti. Quindi sono venuti per forza da fuori, o sono scappati da quegli aggeggi là, o non lo so, dalle fogne. Io sto male a vedere i toghi, io ero pianto come una stupida. È proprio invivibile la cosa, non si può vivere. La paura è proprio questa, trovarselo tra i piedi e non sapere che fare ovviamente, perché dove scappa. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, non posso camminare. Ma a San Tommaso, periferia abbandonata, sono tanti i problemi al di là dei topi, come la nuova bocciofila. Giusto farla, dicono, ma si poteva pensare in questo ampio spazio di fare anche un parco giochi per i più piccoli. Avete fatto un campo di boccio? Fate uno, due file di campo di boccio. Ma non è che avete alzato un muro di Berlino laddove è stato abbattuto, qua l'hanno alzato e non hanno fatto un parco giochi. Cioè San Tommaso, proprio dimenticato. Grazie. Grazie.